Serrande abbassate, insegne spente, locali chiusi. Questa è la Cesenatico di oggi, la Cesenatico che non vorremmo vedere più. E invece, senza il vostro aiuto, dopo questa crisi drammatica, tante piccole attività della nostra città non riapriranno più. Per tornare ad alzare le nostre serrande, accendere le nostre insegne e brindare di nuovo nei nostri bar, abbiamo bisogno di tutti voi. Quando tutto sarà finito, la nostra economia dovrà ripartire con rinnovato slancio. Altrimenti, il deserto di oggi diventerà uno scenario tragicamente familiare. Limita le tue spese sulle grandi piattaforme online. Acquista solo lo stretto necessario. Il rapporto umano ha un grande valore. Ricordatevi che quello che trovate su Amazon, spesso lo trovate anche da noi, nel piccolo negozio sotto casa. Quello che l'inverno, quando tutto è spento, tiene accesa la sua insegna mantenendo vivo un pezzo di città. Anche molti di noi vendono online, ma i soldi restano qui, nella nostra città. per pagare i servizi, le nostre rette scolastiche e le scuole di danza e di ginnastica per i nostri figli. Mantenere la ricchezza all'interno del nostro comune oggi diventa una necessità vitale. Per tornare ad essere quello che siamo sempre stati, una città viva con gli insegni sempre accesi. Una città dinamica e divertente che ha insegnato al mondo la cultura dell'ospitalità. Una città che non ha paura delle sfide, ma che in questo momento ha bisogno di voi. Tornate ad acquistare nei nostri negozi, fare l'aperitivo nei nostri bar e a cenare nei nostri splendidi ristoranti. Amrachman! Confidiamo nel vostro aiuto! E in campo torneremo a darvi ogni giorno il nostro sorriso! Grazie!